Buonasera, abbiamo con noi Stefano Lado, Presidente della Banca Popolare di Spoleto. Buonasera, vogliamo porle delle domande. Il mondo delle popolari è in subbuglio per via della riforma Renzi. Questa rivoluzione avrà delle ripercussioni sulla Banca Popolare di Spoleto? Sulla Banca Popolare di Spoleto non avrà ripercussioni, in quanto è dal 1992 che è stata trasformata in SPA, quindi impropriamente viene ancora la denominazione come popolare, ma non lo è più, quindi non avrà alcuna ripercussione. Bene, procede il processo di acquisizione della Banca Popolare di Spoleto da parte di Banco Desio. A che punto siamo e cosa si farà in futuro? Beh, diciamo che la governance oramai, già dal primo di agosto, è stata nominata dal capogruppo Banco Desio dell'Abrianza, l'acquisizione sta procedendo, stiamo mettendo in atto le prime iniziative, sia dal punto di vista dei tassi, eccetera, e dobbiamo ancora terminare con la parte di aumento di capitale, conferendo quei 21 sportelli che abbiamo nel Lazio come Banco Desio, tramite aumento di capitale e 12 sportelli che sono a Toscana. Così avremo due banche, la Banca del Nord con Banco Desio e dell'Abrianza, che arriverà a fine Emilia, e una banca centrale dove sarà concentrata soprattutto in Umbria, e poi abbiamo le Marche, il Lazio e credo in Abruzzo con due filiali. Grazie. Senta, volevo chiederle, in quanto relatore della Sinossi 2014, ci può dare un suo giudizio su questo rapporto? Ho trovato uno scambio di idee molto interessante, per me era la prima volta come relatore, quindi non credo di aver svolto al meglio il mio lavoro, comunque i relatori erano tutti molto interessanti, e ritengo che ci possa essere in futuro un ulteriore scambio di idee, anche con alcuni interventi che sono stati fatti dal pubblico. Ringraziamo Stefano Lado per la sua disponibilità. Grazie, buonasera. Grazie.